Mi chiede di dare mandato alla giunta di decidere l'aumento della base d'asta. Benissimo, ma io vorrei sapere che cosa ci dobbiamo fare a campone, perché altrimenti non è che mi piaccia molto questa cosa, ed è un mio parere personale, non certo come il presidente di una commissione che tutto sommato ha un valore consultivo e basta, quindi che questa è solo una mia espressione. E questo può far vendere la valore della bilancia per me anche da una parte negativa completamente, perché quella struttura è un problema grosso, metterla dentro, far aumentare il corrispettivo per il gestore su qualcosa che non sappiamo neanche di cosa ci vogliamo fare, non penso sia una cosa giusta. Poi almeno chiedo che passi il consiglio, che non sia la giunta a decidere, ma che vede il consiglio. E diciamo che comunque io penso proprio di assenermi, ovviamente il lavoro fatto come commissione benessere animale è un lavoro importante, però il mio ruolo è quello di un consigliere di opposizione e non di altro e di sollecitare miglioramenti e secondo me il fatto di non aver fatto passare questa delibera in commissione benessere animale non è cosa di buon conto. Mi dispiace di sentire dall'assessore Bellini, ma se anche questa è la sintesi, siccome tutte le volte che ci sedevamo in commissione chiedevamo, ma come saranno non espresse? In questo caso ci veniva detto, verrà fatta nella seconda parte, perché non siamo stati consultati per questo mi sembra una cosa piuttosto grave e io non ci sto a fare nulla di semplicemente il ruolo dell'archè. Per cui ovviamente la cosa è importante, il canile deve essere dato in gestione, però il mio monto sarà solo di astensione, se non addirittura al contrario, in base anche a quanto si riuscirà a capire se è possibile su questa storia della struttura di Galeata.